La danza macabra La terapia tocca il suo apogeo nella danza macabra, che si svolge intorno al paziente giunto al suo ultimo stadio. A un prezzo che oscilla fra 500 e 2000 dollari al giorno, officianti in camice bianco e verde avvolgono i resti del paziente in aromi antisettici. Più l'incenso e la pila sono esotici, più la morte si fa beffe del sacerdote. L'uso religioso della tecnologia medica è arrivato a prevalere sul suo scopo tecnico e la linea che separa il medico dal necroforo non è più distinguibile. Come ogni gestore di crisi, della moneta, dello stato o del divano, progetta strategie intimamente contraddittorie e requisisce risorse che nella loro vacua inutilità appaiono tanto più grottesche. All'ultimo momento egli promette a ciascun paziente quel diritto alla priorità assoluta per ambire alla quale i più si ritengono troppo poco importanti. La ritualizzazione della crisi, che è un carattere generale della società morbosa, assicura al funzionario medico tre cose. Gli dà una libertà cui normalmente soltanto i militari possono aspirare. Può facilmente pretendere l'immunità dalle norme ordinarie di giustizia e di decenza. Cosa più importante, tutta la sua prestazione si effettua nell'atmosfera propria della crisi. Poiché formano un'isola incantata, che non è di questo mondo, il tempo e lo spazio della collettività richiesti dall'impresa medica sono sacri, come i loro corrispettivi religiosi e militari. Non solo la medicalizzazione dell'agonia ritualizza sogni macabri ed estende la licenza professionale ad esperire tentativi osceni. L'escalation delle cure terminali esenta il medico da qualunque obbligo di dimostrare l'efficacia tecnica delle risorse che ha a sua disposizione. Non esistono limiti al suo potere di chiedere sempre di più. Infine, la morte del paziente sottrae il medico a ogni possibile controllo e critica. In qualunque istituzione, l'orientamento in funzione della crisi giustifica ogni sorta di inefficacia. La morte in ospedale è ormai endemica. Il costo degli ultimi giorni di un cittadino è aumentato, si calcola del 1200%, con un ritmo molto superiore a quello dell'assistenza sanitaria in generale. Assicurato, paga per partecipare al proprio rito funebre. La paura della morte immediata fu avvertita per la prima volta dalle élite settecentesche che rifiutavano l'assistenza religiosa e non credevano all'aldilà. La paura moderna della morte, sguarnita dai presidi sanitari, fa apparire la vita come una corsa verso una zuffa finale e ha spezzato in maniera unica la fiducia delle persone in se stesse. Ha spinto a credere che l'uomo ha ormai perso la capacità autonoma di riconoscere quando è arrivata la sua ora e di farsi carico della propria morte. Si è perso ormai la fede nella propria capacità di morire, cioè nella forma estrema che la salute può assumere, e ha fatto un grosso problema del diritto di essere ammazzato in forma professionale. Si crede che il ricovero in ospedale riduca la sofferenza o aiuti a sopravvivere più a lungo, ma né l'una né l'altra cosa ha molte probabilità di avvenire. Muoiono più persone adesso per il fatto che l'intervento d'emergenza è accentrato nell'ospedale di quante non si riesca a salvarne grazie alle tecniche superiori che l'ospedale può fornire. Il sistema sanitario indirizza i propri sforzi là dove la domanda sembra illimitata. Nel suo caso, la protezione dalla morte. Le unità di cura intensiva delle malattie cardiache, per esempio, sono molto appariscenti e non offrono alcun vantaggio statisticamente dimostrato per la cura dei malati. Persino nelle circostanze in cui il medico è tecnicamente attrezzato per svolgere il ruolo tecnico al quale aspira, inevitabilmente egli adempi anche funzioni religiose, magiche, etiche e politiche. In ognuna di queste funzioni, il medico d'oggi è più patogeno, che guaritore o semplicemente anodino. Paradossalmente, più si concentra l'attenzione sul dominio tecnico della malattia, più si amplia la funzione simbolica e non tecnica svolta dalla tecnologia medica. Volente o nolente, il medico moderno è così costretto a svolgere ruoli simbolici, non tecnici. Si può dire che proprio nelle aree, peraltro ristrette, in cui la medicina costosa è diventata più specificamente efficace, proprio lì i suoi effetti collaterali simbolici si vengono rivelando sempre più nefasti per la salute. La magia bianca della medicina tradizionale, che sorreggeva gli sforzi del paziente per guarire, è diventata magia nera. Le pratiche mediche diventano magia nera quando, invece di mobilitare i poteri di autoguarigione del malato, lo trasformano in un flaccido e mistificato guardone della propria cura. Le pratiche mediche diventano un culto morboso quando si svolgono come dei riti che concentrano ogni aspettativa del malato sulla scienza e sui suoi funzionari, anziché incoraggiarlo a cercare un'interpretazione creativa del proprio stato e a trovare un esempio degno d'ammirazione in qualche persona, morta da tempo o a lui vicina, che abbia imparato a soffrire. Le pratiche mediche aggravano la malattia di una degradazione morale quando isolano l'ammalato in un ambiente professionale, anziché fornire alla collettività motivazioni e discipline che accrescano la tolleranza sociale nei confronti dei disturbati. Col sorgere della civiltà medica e degli ordini sanitari, i medici si distinsero dai giarlatani e dai preti per il fatto di conoscere i limiti della propria arte. Oggi la corporazione medica viene reclamando il diritto di operare miracoli. La medicina rivendica a sé il paziente anche quando l'eziologia è incerta, la prognosi sfavorevole e la terapia puramente sperimentale. In circostanze del genere, solo puntando sul miracolo medico, ci si può premonire dall'insuccesso, dato che se nei miracoli si può sperare, farsi assegnamento non è possibile, per definizione. La medicalizzazione del miracolo aiuta a comprendere ancora meglio la funzione sociale delle cure terminali. La professione medica passa all'eccedenza alla gestione di altri mestieri non medici. Con un'operazione di dumping, i signori della medicina si liberano di quella seccatura che sono le cure di scarso prestigio e investono di un feudo medico derivato i poliziotti, gli insegnanti o i direttori del personale. La medicina conserva la più assoluta autonomia di definire che cosa è malattia, ma cede ad altri il compito di scovare gli ammalati e di provvedere al loro trattamento. Soltanto la medicina sa in che cosa consista la tossicomania, anche se i poliziotti sono tenuti a sapere come va controllata. Soltanto la medicina è in grado di accertare una lesione cerebrale, ma lascia agli insegnanti il compito di gestire bambini meno matti dal diagnosta. Questa proliferazione di mestieri abilitanti che detengono un prestigio medico riflesso ha creato uno scenario completamente nuovo per il ruolo del malato. Qualunque società, per essere stabile, ha bisogno di registrare la devianza. Nella maggioranza delle società ci sono persone incaricate di assegnare ruoli agli individui che non rientrano nella regola. Dando un nome allo spirito sotteso alla devianza, il potere assoggetta il deviante al dominio del linguaggio e del costume e lo trasforma, la minazza, in supporto del sistema sociale. L'eziologia, dal punto di vista sociale, trova in se stessa la propria conferma. Ogni civiltà definisce le proprie malattie. Lo stregone si occupava di guarire ed esercitava l'arte di distinguere fra loro gli spiriti maligni. non era membro di un corpo professionale e non aveva alcun potere di inventare nuovi demoni. Le professioni abilitanti, invece, nei loro raduni annuali, creano i ruoli di malato che poi assegnano. I ruoli disponibili per un individuo sono sempre stati di due tipi, quelli standardizzati dalla tradizione culturale e quelli scaturenti dall'organizzazione burocratica. Il medico è venuto progressivamente perdendo il suo ruolo di moralista per assumere sempre più la parte di illuminato imprenditore scientifico. Suo compito predominante è divenuto quello di sgravare i malati dalla responsabilità dei loro malesseri e a questo scopo si sono stabilite nuove categorie scientifiche di malattia. Il modello di malato, descritto intorno alla metà del secolo, non è più adeguato per definire quello che accade in un sistema medico il quale rivendica la propria autorità su persone che non sono ancora malate, su altre che non possono ragionevolmente attendersi di star bene e infine su altre per le quali i medici non hanno cure più efficaci di quelle che potrebbero essere somministrate da una zia o da uno zio. Ma, al di là di un punto critico, il controllo sociale esercitato attraverso la diagnosi di bisogni illimitati ha distrutto la propria base. Ormai il cittadino, finché non si prova che è sano, si presume sia malato. Nella società terapeutica trionfante, ognuno può trasformarsi in terapista e qualcun altro in suo cliente. Il ruolo del dottore non è più ben definito. La professione sanitaria è oggi un'amalgama di servizi clinici, gestione tecnica della sanità pubblica e ricerca scientifica. Il medico ha a che fare con clienti e che in ognuno dei loro contatti con la corporazione sanitaria ricoprono contemporaneamente più ruoli. La salute non è più una proprietà naturale, di cui si presume che ogni essere umano sia dotato fino a quando non si dimostra che è malato. È invece divenuta una meta perennemente lontana, cui si ha il diritto di aspirare in virtù dei principi di giustizia sociale. La comparsa di quel conglomerato che è oggi la professione sanitaria ha reso infinitamente elastico il ruolo di paziente. Il potere del medico di attestare che un individuo è ammalato ha ceduto il posto alla presunzione burocratica del manager sanitario, il quale classifica le persone secondo il grado e la categoria dei loro bisogni terapeutici, mentre l'autorità medica si è estesa alla pianificazione generalizzata della salute, all'individuazione precoce delle terapie preventive e in misura crescente alla cura degli incurabili. Prima la medicina moderna controllava un mercato di dimensioni limitate. Oggi il suo mercato non ha più confini. Si è arrivati al punto che persone non malate si assoggettano a un'assistenza professionale nell'interesse della loro salute futura. Risultato? Una società morbosa che chiede una medicalizzazione universale e un'istituzione medica che attesta un'universale morbosità. In una società morbosa prevale l'idea che una cattiva salute definita diagnosticata è infinitamente preferibile a qualunque altra etichetta negativa o a non avere etichetta alcuna. È meglio che essere catalogati come devianti politici o criminali, meglio che come pigri, meglio che come assenti volontari dal lavoro. Sono sempre di più le persone che nel subcosciente sanno di essere stanche e di star male per le mansioni che svolgono e per la passività dei loro svaghi. Ma vogliono che gli si mentisca e gli si dica che la malattia fisica le esonera da ogni responsabilità sociale e politica. La vita sociale si riduce a somministrare e subire terapie, mediche, psichiatriche, pedagogiche o geriatriche. Rivendicare l'accesso alla cura diventa un dovere politico, il certificato medico un potente mezzo di controllo sociale. Ora che tutti tendono ad essere in qualche modo dei pazienti, il lavoro salariato acquista caratteri terapeutici. L'educazione sanitaria a vita, i consultori, gli esami e le cure di manutenzione sono incorporati nella routine della fabbrica e dell'ufficio. Il rapporto di dipendenza terapeutica permea e colora le relazioni produttive. L'homo sapiens, che si destò al mito in una tribù e crebbe alla politica come cittadino, venne ora addestrato ad essere un detenuto a vita in un mondo industriale. La medicalizzazione porta all'estremo il carattere imperialista della società industriale. La iatrogenesi sociale insorge quando l'ambiente è privato di quelle condizioni che permettono agli individui, alle famiglie, alle comunità di tenere sotto controllo i propri stati interni e gli spazi in cui vivono. La iatrogenesi culturale rappresenta un terzo modo di negazione della salute da parte della medicina. Essa inizia quando l'impresa medica distrugge nella gente la volontà di soffrire la propria condizione reale. È un sintomo di questa iatrogenesi il fatto che la parola sofferenza è diventata quasi inservibile per indicare una risposta umana realistica. Espansione industriale come una guerra contro ogni sofferenza. Ha così minato la capacità degli individui di far fronte alla propria realtà, di esprimere propri valori e di accettare il dolore e la menomazione inevitabili e spesso irrimediabili, la decadenza e la morte. Godere buona salute significa non soltanto riuscire a fronteggiare la realtà, ma anche a gioire di questa riuscita. Significa essere capaci di sentirsi vivi nel piacere e nel dolore. Significa aver caro anche a rischiarsi di sopravvivere. Salute e cultura sono in gran parte la stessa cosa. Ogni cultura modella una sua particolare gestalte di salute e un suo particolare tipo di atteggiamenti nei confronti del dolore, della malattia, della menomazione e della morte, ciascuno dei quali è una diversa specie di quella interpretazione umana tradizionalmente detta l'arte di soffrire. La salute di ogni persona è una responsabile interpretazione di un copione sociale. Il senso che la persona ha del proprio corpo e con esso la sua salute sono determinati dalla relazione che essa ha con i lati dolci e amari della realtà e del modo in cui si comporta verso i propri simili quando vede che soffrono, sono infermi o in preda all'angoscia. La salute colta è definita dallo stile con cui ciascuna società si esprime nell'arte di vivere, di far festa, di soffrire e di morire. Tutte le culture tradizionali derivano la loro funzione igienica da questa capacità di dotare l'individuo dei mezzi che gli permettono di tollerare il dolore, di comprendere l'infermità o la menomazione e di dare un senso all'ombra incombente della morte. La cura della salute in tali culture è sempre in primo luogo un programma di regole per mangiare, bere, lavorare, respirare, far l'amore, far politica, far ginnastica, cantare, sognare, far la guerra, soffrire. L'azione terapeutica consiste per la maggior parte in un modo tradizionale di consolare, assistere e confortare il prossimo finché non si rimetta in salute e la cultura degli ammalati è soprattutto una forma di tolleranza nei confronti di chi soffre. Le culture che sopravvivono sono appunto quelle che forniscono un codice vitale e coerente con la costituzione genetica di un dato gruppo, con la sua storia, con il suo ambiente e adatto alle peculiari esigenze nascenti dal confronto con i gruppi vicini. In senso contrario a queste funzioni si muove l'ideologia diffusa dalla medicina cosmopolita del nostro tempo. Essa scalza dalle radici i vecchi programmi culturali e impedisce che ne sorgano di nuovi capaci di offrire un modello per l'autoconservazione e per la sofferenza. Quando una cultura si medicalizza in qualunque parte del mondo la struttura tradizionale delle usanze che possono diventare esercizio consapevole nella pratica personale della virtù dell'igiene viene progressivamente paralizzata da un sistema meccanico, un codice medico in forza del quale gli individui si rimettono alle istituzioni emanate dai loro custodi sanitari. La medicalizzazione dà luogo a un prolifico programma burocratico basato sull'idea che non occorra affatto che ciascuno affronti personalmente il dolore, la malattia e la morte. L'impresa medica moderna rappresenta un tentativo di fare per conto degli altri quello che gli altri grazie al loro patrimonio genetico e culturale erano prima in grado di fare da soli. La civiltà medica è pianificata e organizzata allo scopo di sopprimere il dolore eliminare la malattia e annullare il bisogno di un'arte di soffrire e di morire. Questo progressivo appiattimento della prestazione personale virtuosa costituisce un obiettivo nuovo che mai prima d'ora aveva fatto da guida per la vita sociale. Il soffrire il guarire e il morire che sono attività essenzialmente intransitive che ognuno apprende dalla cultura vengono ora rivendicate dalla tecnocrazia alla sua gestione e considerate come disfunzioni dalle quali le popolazioni vanno liberate per mezzo di strumenti istituzionali. Gli obiettivi della civiltà medica metropolitana sono così antitetici ad ogni programma sanitario culturale che si incontra sulla via della progressiva colonizzazione. Quando la civiltà medica cosmopolita colonizza una cultura tradizionale trasforma l'esperienza del dolore il medesimo stimolo nervoso che chiamerò sensazione di dolore si traduce in un'esperienza diversa a seconda non soltanto della personalità ma anche della cultura. L'individuo diventa incapace di accettare la sofferenza come una componente inevitabile del suo consapevole confronto con la realtà e impara a vedere in ogni malessere il segno di un proprio bisogno di protezione o riguardo. Le culture tradizionali affrontano il dolore e l'infermità e la morte interpretandole come sfide che esigono una risposta dall'individuo stesso che si trova in difficoltà la civiltà medica le trasforma invece in richieste avanzate dagli individui all'economia cioè in problemi che si possono amministrare o estrarre dal quadro esistenziale. Le culture sono sistemi di significati la civiltà cosmopolita è un sistema di tecniche la cultura rende sopportabile il dolore interpretandone la necessità soltanto il dolore che si considera rimediabile non si può sopportare. Il dolore battito dagli individui aveva l'effetto di stabilire un limite all'abuso dell'uomo da parte dell'uomo le minoranze sfruttatrici potevano vendere alcol o predicare religioni per intontire le loro vittime e gli schiavi potevano dedicarsi al blues o a masticare coca ma al di là di un punto critico di sfruttamento le economie tradizionali fondate sulle risorse del corpo umano non potevano più reggersi qualunque società che infliggesse disagi e dolori tanto intensi da diventare culturalmente insoffribili non poteva che finire oggi una parte crescente dell'intera massa di dolori è prodotta dall'uomo è un effetto collaterale delle strategie con cui si persegue l'espansione industriale il dolore non è più sentito come un male naturale o metafisico è una maledizione sociale e per impedire che le masse maledicano la società quando sono colpite dal dolore il sistema industriale elargisce loro una medicina che lo sopprime il dolore si traduce così in accresciuta domanda di farmaci ospedali servizi medici e altre forme di cura professionalizzata è impersonale nonché in sostegno politico a un'ulteriore crescita dell'istituzione medica senza riguardo per il suo costo umano sociale o economico il dolore è cioè diventato un problema di economia politica il che scatena un processo avalanga tramutato in consumatore di anestesia l'individuo non può che chiedere sempre maggiori dosi di prodotti e servizi che gli procurino artificialmente insensibilità stordimento incoscienza la sensazione del dolore è provocata da messaggi che affluiscono al cervello l'esperienza che ne deriva dipende per qualità e quantità dalla dotazione genetica e da almeno quattro fattori funzionali oltre che dalla natura e dall'intensità dello stimolo e cioè la cultura l'ansia l'attenzione e l'interpretazione tutti e quattro questi fattori sono a loro volta modellati da determinanti sociali l'ideologia la struttura economica il carattere della società mentre per la cultura il dolore è un disvalore intrinseco intimo e incomunicabile per la civiltà medica è soprattutto una reazione organica sistemica che si può verificare misurare e regolare il dolore diventa oggetto di controlli da parte del medico anziché occasione per chi lo soffre di vivere responsabilmente la propria esperienza profonda trasformazione che si è avuta nel rapporto tra il dolore e gli altri mali di cui può soffrire l'uomo il dolore ha cambiato posizione rispetto all'afflizione al senso di colpa al peccato all'angoscia alla paura alla fame all'infermità non esiste alcun precedente storico di una situazione come la nostra in cui l'esperienza del dolore fisico personale è determinata dal programma terapeutico inteso a distruggerlo l'atto di soffrire il dolore ha sempre una dimensione storica vivendo in una società che dà grande valore all'anestesia tanto il medico quanto il suo potenziale cliente vengono rieducati a soffocare l'interrogativo inerente a ogni dolore la domanda sollevata dall'intima esperienza dolorosa si tramuta in una vaga ansia che si può sottoporre a cura sono fermamente convinto che se l'intera materia medica quale oggi è usata si potesse buttare in fondo al mare sarebbe tanto meglio per l'umanità e tanto peggio per i pesci l'ethos del guaritore consentiva al medico di affrontare l'insuccesso con la stessa dignità che l'uomo comune aveva appreso dalla religione dalla tradizione popolare e dal libero accesso agli analgesici il funzionario della medicina attuale si trova in una posizione diversa e gli mira in primo luogo al trattamento non alla guarigione è attrezzato non a comprendere gli interrogativi che il dolore suscita in colui che soffre ma a degradare tali dolori in un elenco di disturbi che si possono raccogliere in un dossier si vanta di conoscere la meccanica del dolore e in tal modo elude l'invito del paziente alla compassione in una società anestetizzata occorrono stimoli sempre più forti perché si abbia il senso di essere vivi la droga la violenza e l'orrore diventano degli stimolanti che in dosi sempre più potenti riescono ancora a suscitare un'esperienza dell'io la diffusa anestesia accresce la domanda di un'eccitazione ottenuta col rumore con la velocità con la vehemenza per distruttive che siano tuttavia mentre respinge come masochismo l'accettazione della sofferenza il consumatore di anestesia tende a cercare un senso della realtà in sensazioni sempre più forti la rivoluzione francese dettò origina due grandi miti uno che i medici potevano surrogare il clero l'altro che grazie al cambiamento politico la società avrebbe riacquistato la sua salute originaria la malattia divenne una questione pubblica il nome del progresso cessava da essere un fatto che riguardava il malato la malattia è un sintomo di degradazione politica e sarà eliminata allorché il governo della cosa pubblica verrà risanato l'identificazione degli ospedali come focolai di pestilenza era corrente e si spiega facilmente essi erano sorti per iniziativa cristiana sul finire dell'antichità come dormitori per viaggiatori vagabondi e derelitti i medici cominciarono a farvi apparizioni regolari al tempo delle crociate sull'esempio degli arabi verso la fine del medioevo come istituti di carità per il ricovero degli indigenti divennero parte integrante del paesaggio architettonico urbano fino al dardo settecento l'ingresso in ospedale era considerato il tipico viaggio senza speranza di ritorno nessuno vi andava per rimettersi in salute malati pazzi invalidi epilettici incurabili trovatelli e mutilati appena operati erano ammucchiati tutti insieme senza distinzione di età e di sesso le amputazioni venivano eseguite nei corridoi tra i paglierici al pari delle carceri gli ospedali erano considerati un'ultima stazione non li si concepiva come strumenti terapeutici suscettibili di migliorare le condizioni dei ricoverati nell'ospedale la malattia subisce una completa degenerazione si trasforma in febbre delle prigioni caratterizzata da spasmi temperatura indigestione orina pallida respiro depresso e porta infine alla morte i progetti miranti a instaurare una società in buona salute cominciano con l'appello a una ristrutturazione sociale che elimini i mali prodotti dalla civiltà il miraggio della salute come l'ha chiamato Dubot assume all'inizio la forma di un programma politico dopo il congresso di Vienna gli ospedali si moltiplicarono e le scuole di medicina conobbero un grande sviluppo intorno al 1770 il medico generico conosceva in pratica soltanto la peste e il vaiolo nel 1860 invece anche l'uomo della strada poteva citare almeno una dozzina di malattie con la loro specifica denominazione medica l'improvviso questa comparsa del medico nelle vesti di Salvatore Taumaturgo non era dovuta al fatto che le nuove tecniche avessero dato prova ad essere efficaci bensì al bisogno di un rito magico che prestasse credibilità a un disegno nel quale la rivoluzione politica aveva fallito perché la malattia e la salute potessero accampare diritti sulle risorse pubbliche occorreva che da concetti generali fossero tradotti in termini operativi i disturbi dovevano diventare malattie oggettive che infestavano l'umanità che si potevano trapiantare e coltivare in laboratorio e che potevano essere sistemate in cliniche bilanzi archivi e musei la malattia fu così resa suscettibile di gestione amministrativa un ramo dell'elite fu incaricato dalla classe dominante di provvedere autonomamente alla sua vigilanza ed eliminazione l'oggetto della cura medica definito da un'ideologia politica nuova anche se non dichiarata acquisì lo status di un'entità esistente separatamente sia dal medico che dal malato anziché l'uomo sofferente al centro del sistema medico si collocava la malattia l'antichità non aveva un metro per la malattia i primi a tentare di applicare la misurazione negli atti medici furono i contemporanei di Galileo ma con scarso successo verso la fine del settecento ci si cominciò a rendere conto che l'ospedale era il posto ideale per studiare e comparare casi i medici presero a frequentare gli ospedali per esercitarsi a scoprire nel guazzabuglio dei pazienti più casi della medesima malattia acquisivano la visione del capezzale l'occhio clinico l'approccio clinico detta origine a un nuovo linguaggio che parlava di malattie in presenza dell'oggetto e a un ospedale riorganizzato e suddiviso secondo le malattie per meglio mostrarle agli studenti dopo essere stato un luogo per esercitazioni e diagnostiche l'ospedale si tramutò così in un istituto didattico presto sarebbe diventato un laboratorio per la sperimentazione di cure e al volgere del secolo una sede di trattamento terapeutico oggi il lazzaretto si è trasformato in un'officina di riparazione a compartimenti stagni tutto questo avvenne per fasi per tutto l'ottocento la patologia consiste soprattutto nella classificazione delle anomalie anatomiche solo verso la fine del secolo i discepoli di Claude Bernard cominciarono a definire e a catalogare anche la patologia delle funzioni l'epoca della medicina ospedaliera che dall'inizio al tramonto sarà durata non più di un secolo e mezzo si avvia ora alla conclusione la misurazione clinica si è diffusa in tutta la società la società è diventata una clinica e tutti i cittadini sono diventati dei pazienti la cui pressione sanguigna viene costantemente sorvegliata e regolata perché sia entro i limiti normali i gravi problemi di personale di risorse finanziarie di diritto d'accesso di capienza e di gestione che affliggono gli ospedali dappertutto si possono interpretare come i sintomi di una nuova crisi del concetto di malattia e che si tratti proprio di una crisi lo dice il fatto che si ammette due soluzioni opposte entrambe le quali rendono superato l'ospedale attuale la prima è un'ulteriore medicalizzazione patogena della cura della salute che estenda ancora di più il controllo clinico della professione medica sulla popolazione non degente la seconda è una smedicalizzazione critica e scientificamente fondata del concetto di malattia ogni malattia è una realtà creata socialmente il suo significato e la risposta che si ha suscitato hanno una storia le società industriali avanzate hanno tutto l'interesse a salvaguardare la legittimità epistemologica delle entità morbose finché la malattia è qualcosa che si impossessa degli uomini qualcosa che questi prendono o da cui sono colti le vittime di questo processo naturale possono essere esentate da ogni responsabilità per la loro condizione possono essere compatite non incolpate per il modo querulo abietto sprovveduto con cui soffrono la loro realtà soggettiva possono tramutarsi in un capitale duttile e lucroso se accettano supinamente la loro malattia perché così vanno le cose e possono essere scaricate da ogni responsabilità politica per la mano che danno ad accrescere lo stress patogeno dell'industria superintensiva una società industriale avanzata genera malati perché rende gli uomini incapaci di controllare il proprio ambiente e quando essi crollano sostituisce una protesi clinica alle relazioni spezzate in ogni società la classificazione della malattia nosologia rispecchia l'organizzazione sociale il male che la società produce viene battezzato dal dottore con nomi che sono molto cari ai burocrati la incapacità di apprendimento ipercinesia o la disfunzione cerebrale minima spiega ai genitori perché i loro bambini non imparano servendo da alibi all'intolleranza o all'incompetenza della scuola la pressione alta serve ad alibi per lo stress che aumenta la malattia degenerativa per l'organizzazione sociale che produce degenerazione più la diagnosi è precisa più appare preziosa la terapia più è facile convincere le persone che esse hanno bisogno dell'una e dell'altra e meno è probabile che esse si rivoltino contro la crescita industriale prima che la malattia fosse considerata essenzialmente un'anomalia organica o del comportamento chi si ammalava poteva ancora trovare negli occhi del medico un riflesso della propria angoscia e un qualche riconoscimento dell'unicità della sua sofferenza oggi ciò che vi si trova è lo sguardo fisso di un contabile di biologia assorto in un calcolo costi ricavi il suo malessere gli viene sottratto per diventare materia prima di un'impresa istituzionale la sua condizione è interpretata secondo una serie di regole astratte in una lingua che lui non può comprendere gli si insegna che esistono certe entità ostili che la medicina combatte ma dicendogli solo quel tanto che il dottore ritiene necessario per ottenere la collaborazione del paziente il linguaggio diventa proprietà esclusiva del medico il malato rimane privo di parole significative con cui esprimere la sua angoscia che viene così ulteriormente aggravata dalla mistificazione linguistica interventi diagnostici e terapeutici che statisticamente risultano più utili che dannosi presentano nella stragrande maggioranza due caratteristiche richiedono mezzi materiali estremamente economici e possono essere dosati e predisposti per l'uso personale diretto o per l'impiego nell'ambito della famiglia morte contro morte la morte come merce in ogni società l'immagine dominante della morte determina l'idea prevalente della salute con la cività medica si è diffusa l'immagine della morte propria dell'uomo bianco dando un contributo di primordine alla colonizzazione culturale l'immagine di una morte naturale cioè di una morte assistita medicalmente e che ci coglie in buone condizioni di salute e in età avanzata è un ideale piuttosto recente nel corso di 500 anni essa è passata per 5 fasi distinte e sta ormai entrando in una sesta ogni fase ha avuto la sua espressione iconografica prima la danza dei morti nel secolo quindicesimo seconda la danza guidata da uno scheletro o danza della morte nel rinascimento terza il trapasso del vecchio dissoluto nella sua camera da letto sotto l'ancien regime quarta il medico che lotta contro gli spettri vaganti della consunzione e della peste nel secolo diciannovesimo quinta il medico che si interpone fra il paziente e la sua morte nella prima metà del secolo ventesimo sesta la morte sotto cura ospedaliera intensiva a ogni fase di questa evoluzione l'immagine della morte naturale ha suscitato una diversa serie di risposte che prendevano un carattere medico sempre più accentuato la storia della morte naturale è la storia della medicalizzazione della lotta contro la morte ognuno si porta presso la propria morte e danza con lei tutta la vita col sorgere della famiglia borghese l'uguaglianza davanti alla morte ebbe fine chi poteva permetterselo cominciò a pagare per tenerla lontana si trattava di un nuovo tipo di ricco che non voleva morire stando a riposo e desiderava proseguire la sua attività fino a quando la morte non sopravvenisse per esaurimento naturale la borghesia che poteva permettersi di eliminare la morte sociale evitando di andare a riposo inventava la fanciullezza per tenere sotto controllo i propri giovani la morte clinica la rivoluzione francese segnò una breve battuta d'arresto nella medicalizzazione della morte secondo i suoi ideologi la morte prematura non poteva infierire in una società fondata sul triplice ideale rivoluzionario ma quando il medico comincia a portare le lenti cliniche la morte gli appare in una nuova prospettiva mentre i mercanti del settecento avevano determinato la visione della morte con l'aiuto dei charlatani da essi impiegati e retribuiti adesso sono i clinici che cominciano a plasmare le idee del pubblico abbiamo visto come la morte da chiamata di dio si trasformasse in un evento naturale e poi in una forza della natura quindi con un'ulteriore mutazione si era convertita in un fenomeno prematuro allorché colpiva che non fosse vecchio e vegeto ora essa è l'esito di malattie specifiche attestate dal medico degradata figura metaforica il suo posto è stato preso dalle malattie omicide la forza della natura già celebrata come la morte si è trasformata in una legione di cause specifiche responsabili del decesso clinico sono molte le morti che vagano ora per il mondo è nel nostro secolo che la morte del valetudinario tra cure prestate da medici specialisti venne considerata per la prima volta un diritto civile l'assistenza medica ai vecchi entra negli accordi sindacali il privilegio capitalistico del decesso per esaurimento naturale su una poltrona direttoriale da luogo alla richiesta proletaria di servizi sanitari per pensionati alla speranza borghese di restare abbarbicati al posto facendo una vita di vecchi ribidinosi subentra il sogno di una vita sessuale attiva garantita dalla previdenza sociale in un tranquillo villaggio per pensionati la cura vita per qualunque condizione clinica diventa presto un'esigenza inderogabile per poter arrivare a una morte naturale l'assistenza medica istituzionale a vita è ormai un servizio che la società deve a tutti i suoi membri la morte naturale fa il suo ingresso nei dizionari una delle maggiori enciclopedie tedesche la definisce per mezzo del suo contrario la morte anormale è l'opposto della morte naturale in quanto è conseguenza di una malattia di una violenza o di disturbi meccanici e cronici un apprezzato dizionario delle idee filosofiche afferma che la morte naturale interviene senza essere preceduta da malattia senza una causa specifica definibile è questa macabra e allucinante idea della morte quella che si intreccia con l'idea del progresso sociale la rivendicazione giuridicamente fondata dell'eguaglianza davanti alla morte clinica diffonde tra la classe operaia le contraddizioni dell'individualismo borghese il diritto alla morte naturale il diritto alla morte naturale viene formulato come richiesta di un eguale consumo di servizi medici anziché come liberazione dai mali del lavoro industriale o come nuova libertà e concreto potere ed aver cura di sé questa concezione sindacale della morte clinica uguale per tutti è quindi l'esatto contrario dell'ideale proposto nel 1792 a Parigi davanti l'assemblea nazionale è un ideale profondamente medicalizzato innanzitutto questa nuova immagine della morte giustifica nuovi livelli di controllo sociale la società è diventata responsabile di impedire la morte di ogni suo membro l'intervento terapeutico efficace o meno può mutarsi in un dovere qualunque decesso che avvenga senza cure mediche può interessare la giustizia l'incontro con un medico diventa ineluttabile quasi quanto l'incontro con la morte la buona morte è ormai irrevocabilmente quella del consumatore tipo di cure mediche il consumo di medicina è diventato un modo per ovviare all'insalubrità delle condizioni di lavoro alla sporcizia delle città e al logorio nervoso dei trasporti perché preoccuparsi dell'ambiente micidiale quando ci sono i medici industrialmente attrezzati per salvare vite umane la morte sotto cura obbligatoria favorisce la ricomparsa delle illusioni più primitive riguardo alle cause della morte quando il medico arrivò a frapporsi fra l'umanità e la morte quest'ultima smarrì l'immediatezza e l'intimità acquisite quattro secoli di prima la morte che aveva perso volto e forma non aveva più una propria dignità non è il paziente ma il medico che ora lotta contro la morte come nelle culture primitive c'è un nuovo qualcuno a cui dare la colpa se la morte trionfa questo qualcuno non è più una persona con la faccia di uno stregone di un antenato di un dio ma il nemico sotto la specie di una forza sociale oggi che la protezione dalla morte è compresa nella previdenza sociale il colpevole si nasconde all'interno della società può essere il nemico di classe che nega al lavoratore sufficiente assistenza medica il dottore che si rifiuta di fare una visita notturna la multinazionale che aumenta il prezzo dei prodotti farmaceutici il governo capitalista o revisionista che ha perso il controllo dei suoi stregoni o l'amministratore che dopo aver fatto studiare i giovani medici all'università di Delhi li lascia emigrare a Londra la tradizionale caccia alle streghe che si scatenava alla morte del capo tribù si modernizza per ogni morte prematura o clinicamente ingiustificata si può sempre trovare la persona o lente irresponsabile che ha ritardato o impedito l'intervento medico la morte sotto terapia intensiva non si possono comprendere appieno le radici strutturali profonde della nostra organizzazione sociale se in esse non vediamo un multiforme esorcismo contro ogni specie di malamorte non soltanto la medicina ma l'assistenza sociale gli aiuti internazionali i programmi di sviluppo sono tutti impegnati in questa lotta l'apocalisse non è più una semplice congettura mitologica ed è invece diventata un'eventualità reale anziché dipendere dalla volontà divina o dalla colpevolezza del genere umano o dalle leggi della natura armageddon è ormai la possibile conseguenza di una decisione diretta dell'uomo anche il cobalto come la bomba all'idrogeno crea l'illusione di un governo della morte i riti sociali medicalizzati non sono che un aspetto per controllo sociale giustificato dalla guerra senza soluzione contro la morte l'aspettativa della morte medicalizzata porta i ricchi a versare premi di assicurazione illimitati e attira i poveri in una trappola mortale tutta d'oro le contraddizioni dell'individualismo borghese sono rafforzate dall'incapacità di affrontare la morte con un qualunque atteggiamento realistico la principale funzione del medico diventa quella dell'arbitro egli è l'agente o rappresentante del corpo sociale e ha il dovere di far sì che tutti giochino secondo le regole con la medicalizzazione della morte l'assistenza sanitaria è diventata una religione mondiale monolitica i cui dogmi sono oggetto di insegnamento in scuole obbligatorie e di cui norme etiche vengono applicate per una ristrutturazione burocratica dell'ambiente la sessualità è diventata una materia di programmazione e spartire il proprio boccone di pane è sconsigliato in nome dell'igiene la lotta contro la morte che impronta di sé lo stile di vita dei ricchi è tradotta dagli enti di sviluppo in una serie di regole che tutti i poveri della terra dovranno rispettare la morte naturale è oggi quel punto in cui l'organismo umano rifiuta ogni altra applicazione terapeutica oggi l'uomo più protetto dalla possibilità di stabilire la scena della propria morte è il malato in condizioni critiche la società agendo attraverso il sistema medico decide quando e dopo quali offese e mutilazioni dovrà morire la medicalizzazione della società ha posto fine all'epoca della morte naturale l'uomo occidentale ha perso il diritto di presiedere all'atto di morire la salute cioè il potere di ragire autonomamente è stata espropriata fino all'ultimo respiro la morte tecnica ha prevalso sul morire la morte meccanica ha vinto e distrutto tutte le altre morti al pari dell'accelerazione che fa perdere tempo dell'istruzione che istupidisce della difesa militare che si autodistrugge dell'informazione che disorienta dei piani urbanistici che creano disordine la medicina patogena è il risultato di una sovrapproduzione industriale che paralizza l'azione autonoma se la particolare frustrazione in cui consiste la controproduttività non viene tenuta distinta dalla crescita dei prezzi e dai costi sociali opprimenti la valutazione sociale di qualunque impresa tecnica si tratti della medicina del trasporto dei media o dell'istruzione resterà limitata a un calcolo del costo ricavo e ben lontana da una critica radicale dell'efficacia strumentale di questi vari settori che incontrere